Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, così leggiamo oggi nella prima lettura tratto dal libro della Sapienza. Il fondo non fa nient'altro che affermare una verità, una rivelazione che si rende sempre più forte, sempre più luminosa nel cuore del popolo di Israele. Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, ed è bellissimo quanto in seguito viene detto, cioè il fatto che ci sono delle prove, delle difficoltà, il fatto che spesso l'uomo si trova a doversi scontrare con la sua fragilità, con la sua caducità in questa vita terrena, questo non deve togliere questa certezza, questa verità che illumina il cuore, se fatti per l'eternità. E la stessa cosa potremmo dire anche nel Vangelo, il fatto che Gesù non fa nient'altro affermare l'analogia del servo, quel servo che avrà lavorato tutto il giorno, giustamente torna a casa stanco, e secondo voi questo servo cosa dovrebbe fare? Non dovrebbe nient'altro che continuare a fare il suo servizio a casa perché il suo padrone possa inutili di sé, poi lui mangerà. Che significa questo messaggio? Che proprio questa unica verità, che sia per la vita eterna, sia per l'eternità, tutto il lavoro, tutta la fatica, questo non pesa, anzi, anzi, tutto questo acquista un gusto, un sapore diverso, proprio perché c'è questa certezza, tutto ciò che è cadugo, tutto ciò che è faticoso, tutto ciò che può anche schiacciare la nostra umanità, è nulla dinanzi al destino, con le nozze eterne di Cristo sposo. Buona missio.